Intanto diciamo che noi si riapre dopo 18 mesi di clausura forzata, per cui già questo è un elemento di grande emozione e credo sia anche molto importante, anche psicologicamente. Un compleanno importante, quello che si festeggerà domenica 26 settembre ad Arezzo, torna foto antiquaria. La storica mostra mercato di fotocamere, cineprese, attrezzature fotografiche antiche e non, che ormai da 35 anni è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 9 alle 17 dell'Oge Vasari accoglieranno tanti espositori provenienti da ogni parte d'Italia. Il giorno precedente, sabato 25 settembre, sarà anche inaugurata una mostra. Tutti in telefono, vogliono venire, vogliono portare roba, quindi dovrebbe essere una cosa veramente meravigliosa. Noi cerchiamo di contribuire con questa riapertura. Qui dentro al Fotoclub ci sarà la mostra, questa mostra che appunto sono, come vedete, dalle immagini, pagine con immagini della storia retina. Poi ci saranno anche, noi faremo un piccolo all'interno qui dentro, un mercatino delle attrezzature fotografie dei nostri soci, usate, che vogliono di smettere. E poi ci sarà anche, grazie a Otti e a Franchini, la partecipazione di una fotomodella appunto dello staff di questa importante ormai istituzione retina. Queste bellissime stampe che noi vedremo qui in questa mostra sono tratte da questo famoso libro che è Arezzo e le sue valli, che è stato edito nel 2009 e che quindi, e che purtroppo ora diciamo che ce ne rimaste poche copie e quindi poi vedremo se faremo la ristampa. Una cosa importante ci sembra che attraverso le vostre fotografie possiamo vedere la trasformazione di questa città negli ultimi 70 anni, 80. Certe volte è meglio non le vedere probabilmente perché se no ci viene da piangere, perché onestamente credo che la città era molto più bella e come era che oggi, che con le famose trasformazioni che dovrebbero portare al progresso, questa è un po' una polemica, purtroppo invece tante volte si fanno dei disastri.